Ok a tutti ci siamo, siamo pronti per domani a Cartoon Meats Cartoon Meats cosa faremo? Allora domani a Cartoon Meats faremo Intervista ai cosplay, poi intervista a Pokémon Millennium Pokémon Millennium a Cydonia, cerchiamo di... abbiamo già per voi tante domande faremo Qui sotto se volete fare delle domande a Cydonia così scrivetemelo, scrivetemi Cydonia, la domanda, ok? Per Cydonia, questa domanda, ok? Poi a i retro, i giochi retro c'è proprio una... ci sarà lì a Cartoon Meats Dove si potranno provare tutti i giochi retro e ci saranno delle community di questi giochi retro E noi andremo a chiederle delle... fare delle domande a loro Per chiedere qualcosa di come è la passione Poi faremo anche a... la... sempre... una bellissima... le chiederemo tantissime domande Anche ai Zeldiani che c'è anche su Facebook E poi ad altri di sempre quanti di Nintendo Proveremo a fare altre interviste a qualche ed un altro E più che altro il cosplay Nintendo Per cui a domani tutti quanti a Cartoon Meats Cartoon Meats lì dove ci sono tutte quante le cose Tantissimi padiglioni dove ci sono anche le robe Nintendo Per cui lì arriva tutto da Giappone Asion Figure e altro Vi faremo vedere tutto e chiederemo anche a... Certa gente che lavora lì che fa... che lavora dentro agli stand Le chiederemo... come mai ha scelto questo lavoro e perchè? E poi vi faremo vedere le Asion Figure Nintendo Che scoveremo lì e vedremo E tante cose sui videogiochi Per cui ci vediamo a tutti domani con... Cartoon Meats Le interviste Domani sera ci sarà... il video Verso sera vi caricherò il video Sera, domenica Per cui arriverà... a... Domani con il video... Sempre Pokémon Vent'anni Pokémon Cartoon Meats Per cui andremo a fare un po' di cose Per cui ci vediamo... Domani con il video Ciao! Ciao! Ciao!